Non solo questa partita ma in generale tutto il torneo lo stiamo preparando da un mesetto e mezzo, due. Il risultato di questa partita sicuramente ci fa felici perché è un ottimo inizio e speriamo di continuare su questa strada visto anche gli avversari abbastanza difficili che avremo successivamente. Questa partita l'avete vinta, quali sono adesso le ambizioni del torneo? Sinceramente su queste cose sportive sono un po' scaramantico quindi dico che noi lavoriamo passo per passo per adesso pensiamo partita per partita poi man mano che andremo avanti vedremo cosa possiamo fare e fin dove possiamo arrivare. E alla luce di questa partita quali sono i miglioramenti tattici da portare alla squadra? Comunque le cose su cui lavorare? Beh in realtà quello che stiamo già facendo va bene, dobbiamo continuare su questa strada e migliorarci su quello che in realtà già facciamo. Di miglioramenti tattici secondo me ce ne sono un bel po' da fare ma quelli vengono anche un po' col tempo continuando a giocare sempre insieme creando il gruppo. Lei è stata la migliore in campo della partita, com'è andata la partita? Allora è andata benissimo non tanto per il risultato quanto perché tutte le mie compagne si sono molto sbloccate dall'anno scorso abbiamo giocato di squadra, hanno segnato tutte e questo era il primo obiettivo della nostra squadra di quest'anno quindi io sono orgogliosissima delle mie compagne da questo punto di vista. Allora è andata benissimo!